Sappiamo che i terremoti non si possono prevedere, però noi come INGV abbiamo secondo me l'obbligo di provare a esplorare questa strada e di vedere che risultati otteniamo. Sibilla si propone l'utilizzo dei dati Radon e di onde VLF per tentare di capire se esiste un possibile precursore, magari anche abbinando diversi tipi di osservazioni. Il progetto prevede l'acquisizione che già in realtà avviene ma è un'acquisizione più sistematica e più ordinata a livello di storage dei dati, di questi due tipi di dati, quindi le serie temporali di Radon e le onde VLF. La conservazione su un database relazionale, ben organizzato e che renda possibile un ciclo continuo di acquisizione dati e l'utilizzo sia di tecniche statistiche storiche consolidate, sia di nuove tecniche di intelligenza artificiale per capire se è possibile avere un avviso, qualcosa che ci possa mettere in allarme su un eventuale terremoto. Grazie. Grazie. Grazie.